All'età di 20 anni, appena entrato all'università, Bruce Lee incontrerà una graziosa ragazza giapponese di cui si innamorerà perdutamente. Gli sarà il suo primo amore della sua vita. Siamo nel 1960, all'Aski Union Building del campus dell'università di Washington, dove Bruce Lee afferrerà con forza il braccio di Emi Sambo, che stava andando alla caffetteria dell'università e qui inizierà una relazione che durerà circa tre anni. Lei è Charlotte Leflè, direttrice del Bruce Lee Fan Club di Seattle. Sarà lei ad intervistarla per la rivista locale. Molte di queste foto saranno prese dal suo blog. Emi in questa intervista descriverà il suo primo incontro. Avevo notato questo giovane ragazzo seduto in un altro tavolo. È noto che inizierà sempre a sedersi sempre più vicino, sempre più vicino al tavolo che normalmente usavo sedermi con i miei amici. Quando finalmente era l'ora della mia lezione, mentre camminavo incrociai Bruce Lee. Lui mi afferrerà forte il braccio e mi dirà ciao. Sambo ricorda quel momento, gli fece un'impressione molto mascolina. Stava cercando di mostrare la sua forza. Anzi, usò così tanta forza che per liberarmi ho dovuto dimenarmi così tanto che caddi per terra con tutti i libri. Gli urlai di lasciarmi andare prima che mi arrabbiassi sul serio. Quando lo fece, gli chiesi perché aveva fatto tutto ciò. Bon fonti o qualcosa? Doveva mostrare una tecnica dei suoi amici. Non capivo che stavo dicendo perché avevo un forte dolore al braccio. Infatti, quando mi lasciò, ebbi il livido per più di una settimana al braccio. Infatti, pensai che fosse un completo cretino. Nei giorni successivi, Bruce Lee mi apparirà ovunque e mi diceva come stai? Tutto ok? Io sono Bruce Lee. Ciao, piacere di conoscerti. Era così persistente che trovava sempre un motivo per parlare con me. Troverà subito un modo per fare ammenda di questo suo comportamento. Infatti, mentre stavo facendo un GT a scuola di danza, mi sono infortunato alla capire. E per questo dovevo spostarmi in stampelle per una settimana. Per andare a scuola dovevo affrontare una scalinata per attraversare un parcheggio. Lui mi appare all'improvviso sollevandomi e prendendo anche i miei libri e le stampelle. Parliamoci di circa 100 kg. Infatti, pensavo che si sarebbe rotto la schiena. Durante l'intervista, Amy ricorderà un lato poco conosciuto di Bruce Lee. Bruce Lee scriveva poesie. Infatti, loro facevano conversazioni su note che si passavano in rima. Bruce inventava ogni tipo di cose, tipo le poesie a quattro battute. Amy raccontava il bizzarro incontro tra Bruce Lee e il professore dell'Università di Washington, Theodore Roche, un acclamato poeta vincitore del premio Pulitzer. Eravamo nella sua stanza che usava anche per fare le lezioni in classe e che lui aveva il permesso di usare anche come ufficio. Bruce stava cercando di spiegarmi alcuni movimenti del Kung Fu e mi diava spiegazioni su movimento e potenza. A me non interessava molto e pensavo solo, speriamo non entri il Roche, visto che siamo nella classe che lui usa come ufficio. E infatti lui entrerà e chiede «Cosa ci fate qui? Io sono Roche, il poeta, e voi siete nella mia stanza». Io ero sotto shock e pensai «Oh mio Dio, Roche!» Ero come paralizzata. E Bruce invece gli andò incontro, gli diede la mano e rispose «Io sono Bruce, si fu lì, un maestro di Kung Fu». Il poeta lo guardò come non sapesse di cosa stesse parlando. Allora Bruce Lee presse il jazz, andò alla lavagna e fece una spiegazione di più di mezz'ora sul Kung Fu, sulla filosofia del Tao e sul movimento eccetera eccetera. Il poeta fu così sbalordito dalla bizzarria della cosa che il giorno dopo, durante la lezione, ricorderà tale scena ai suoi lievi. Credo fosse un maestro di Kung Fu, dirà. Doveva essere un'arma letale. Sambo, inoltre, ricorda le abilità di fisiche di Lee. Racconta un aneddoto sulle pirouette. Dirà «Lasciatemi dire quanto era buono il suo equilibrio», raccontandovi quando gli spiegai come fare una pirouette. Una delle cose più dure da fare senza allenamento. Devi stare dritto sulle punte e fare un giro di 360 gradi completo. È quasi matematica, come seguire una pirouette. Gli dissi di allungare di più. Più si allunga è più facile fare giri attorno a se stesso. Deve avere anche molta forza nei piedi. Rimasi sorpresa quando lo fece, quasi uguale a me, la prima volta. Io lo definivo un genio kinetico. Sapeva che era molto bravo e che aveva studiato cha-cha-cha. Che era un vero talento. Credetimi, riusciva a riprodurre qualsiasi movimento che vedeva. Era una cosa impressionante. Bruce Lee aveva quest'anello in mano. Era molto bello. Era una sorta di zaffiro. E Bruce Lee mi incitava a provarlo. Era molto grande e lo provai. Quando mi disse che dovevo tenerlo, non accettai. Pensavo che volesse elevare la nostra relazione. Erano anni spensierati e felici per Bruce Lee. E mi ricostruirà le giornate con Bruce Lee. Ogni sera nel suo piccolo appartamento senza finestre. Amava cucinare. Canne coi boccoli e noodles. Facevano lunghe camminate sul lago. Bruce Lee insegnava anche Kung Fu ai ragazzini della chiesa. Battista alla comunità cinese. Il quadro dipinto da Amy è l'unico di una vita semplice e tranquilla che conosciamo di Bruce Lee. Forse perché adesso è lontano dalle gang di Hong Kong. E forse non esploderà in lui ancora l'ossessione di diventare una star. È in questo periodo di felicità che Bruce Lee iniziava a parlare di matrimonio a Amy. E le sue poesie iniziavano a ispirarsi ai poeti romantici della letteratura classica cinese. È in questo contesto che si colloca lo zaffiro della nonna. Bruce Lee aveva organizzato con la sua zia Eva Tso che molte volte Bruce Lee usava rivolgersi a lei come mamma. Infatti lei volerà negli Stati Uniti per incontrare la futura sposa di Bruce Lee. Questo rese Amy estremamente a disagio perché Bruce Lee non aveva detto ad Amy che stava succedendo questo incontro. Essa era una tradizione orientale. Avere l'approvazione del parente più vicino era il primo passo per organizzare la cerimonia di matrimonio. Questa cosa non mi piacque e in quel momento anch'io avevo i miei obiettivi e i miei sogni e non volevo essere all'ombra di Bruce Lee. Non volevo rimanere ingappiata a cestire una casa o dei bambini. Inoltre Bruce Lee voleva stabilirsi ad Hong Kong e ad Amy non piaceva Hong Kong. Quindi rifiutò la proposta di Bruce. Amy ricorda anche che Bruce portava molto dolore dentro di sé che l'ha segnato dall'infanzia. Forse dovuto al rifiuto del padre e dalla fissazione che aveva il padre sul fratello più grande Peter rispetto a lui. Mi parlava spesso della madre, parlava molto poco del padre, ma non parlava mai di Peter. Anzi, evitava l'argomento quando si presentava. Nel 1964 Amy Samba si laureerà nella Università di Washington. Lascerà Seattle per trasferirsi a New York e dirigere e assistere i ballerini del Pavillon Polinesian in preparazione del New Year World Fair del 1964. Bruce Lee l'estate invece ritornerà ad Hong Kong. Amy deriva da una famiglia internata dal governo degli stati umiditi all'inizio della seconda guerra mondiale. Ricorda che aveva gli incubi fino a dieci anni per quel posto, tant'è che era duro. Marines che gli puntavano i fucili addosso e vedeva sfrecciare carri armati. Ricorda invece del padre che gli suonava la sesta sinfonia di Beethoven. E per addermontarla gli leggeva duro. Forse per questo che ha avuto sempre il pallino per la danza e il teatro. Finita la guerra si trasferì a Washington Island per un breve periodo. Ma quando il padre mancò, venì a mancare, Amy e la mamma si trasferiranno a Seattle, nel ghetto di Seattle. A differenza di Bruce che viveva nel terzo piano del palazzo di Raymond Shaw, molto più centrale. Mi raccomando, se l'articolo ti è piaciuto, iscriviti al canale e metti mi piace. Ciao!